Il primo attacco di questo match Brandon Pilz serve Ryanarro che vuole il blocco Il legno blocco che prova a buttarsi dentro Però lo stesso numero 55 prova il movimento da cameriere Si appoggia al campionale la spalla E' di Valzo e di Josh Postic Che prova a far attivare Edgar Sosa che rischia di vendere il pallone Ora la palla è per Vizio Lotto che ci pensa sul mattino Prova il tiro da tre punti Buon ritmo, primo minuto un po' da dimenticare per Caserta Caserta si deve abituare a questo orario Io credo che Pesaro sia leggermente più pronta Perché ne ha giocate già due a mezzogiorno Ora palla è per Zero Jones Il vero spavolacchio di questa Pesaro che riesce Sta sullo 0-2 Quindi un minuto ai punti del lungherese Americano, naturalizzato lungherese Attacca una per la 2-7 Che provà a buttarsi dentro Nel stoppato però Valendria il Lotto Adesso Pesaro prova ad andare Contropiede Poi la passa fuori Ancora per Zero Jones Partita per giocare a quest'ora Speriamo lo prenda il primo possibile Ecco Pizzaro Per Caserta Quando si è in difficoltà Si va dal numero 50 Che deve farsi perdonare La prestazione opaca in attacco Di settimana scorsa contro Torino Ora la palla gira per Pesaro Con gli Asaitis Poi ancora Noko Che in quella posizione inoffensivo Serve Ryan Arro Solo tre secondi sul chilometro Serve Jones in angolo a tre punti E un cross il suo C'è il rimbalzo di Victor Gadbefors Che passa il pallone a Edgar Sosa Che vuole andarci calmo adesso Ricordiamo Sosa con 34 punti di meta Nell'ultime tre Palla per Mitchell Watt Che si gira verso il lato centrale del campo Prova il suo movimento in gancio Soltanto il primo ferro Palla ancora per Pesaro Con Ryan Arro Che ormai ha scalzato Marcus Thornton Nelle rotazioni di Pesaro La palla viaggia ancora Coprendo a Pils Che prova a buttarsi dentro Riesce a servire Noko sotto Però combina un pasticcio Il numero 35 Va a avviare il contropiede Di Sosa Che viene sbagliato dal numero 4 Poi c'è Putner Che prende il rimbalzo Ci prova a tre punti Secondo per Pesaro Ora può ripartire Sosa ha buttato Un'occasione Per riportarsi sul quattro pari Sfortunato in quel caso Arrivato in piccato E' un orario che ancora Porta problematiche Intanto Watt combatte in difesa Contro Jones Che si lamenta Della mano Del numero 50 Però Caserta Ha recuperato il pallone La palla è per Edgar Sosa Sfrutta il blocco di Watt Si butta dentro Il numero 4 Scarica per Putnery Ancora la palla Per Josh Bostin Che ci prova da tre punti La palla schizza sul ferro Attacchi un po' bloccati In questi primi minuti Sì Mani freddissime per Caserta Adesso c'è fallo di Cardiffo Sbattuto su close out Sono più pronti Perché non ci ha giocato Due volte a mezzogiorno Ci ha giocato due volte A mezzogiorno Ma anche Pesano Non sta attaccando Per il meglio Solo 4 punti In 3 minuti e mezzo Ora Brandon Pils Che blocca il palleggio Serve Ryan Arrow In angolo Che però viene bloccato Da Bostic La palla è per Giasaitis E c'è L'impassione di Mense Cugino del giocatore NBA Luke Mbahamute Ora la palla è per Caserta Con Sosa Che serve Bostic Vorrei soltare il bocco Bostic Serve Watt Dai 5 metri Palla sul ferro Ancora Quindi c'è il rimbalzo di Pesaro Con Brandon Pils Che vuole il blocco Di blocco C'è lo show Difensivo Davanti di Mitchell Watt Ha un sottoritmo in attacco Si sta prendendo comunque Dei diri abbastanza puliti Però non li sta mettendo Prima o poi dovranno entrare Questi privici Prova Putney Altro ferro Però per il numero 12 Caserta Non riesce Per entrare la palla Quel maledetto Che adesso ce l'ha rubata Però Ghi Raffia il Putney Si è messo la linea di passaggio E quindi a segnare I primi due punti Nella sua partita Ora è subito in difesa Su Gerald Jones Che vuole attaccarlo In palleggio C'è il pallo Di fallo Li gradisce Perché capisce Che il giocatore È aggressivo in difesa Il primo fallo per Raffia il putney Intanto C'è stata una sostituzione Nelle fila di Pesaro Entra Verro anche per lui Però c'è putney Che riesce a rubare Un'altra Doveva essere Preta Dei difensori E consono Diciamo una partita Di pallacanese Ricordiamo che Putney Finora Questo è il terzo errore Dalla lunetta In tutto il campionato Ed arriva anche il quarto Zero su due Che per lui Non è usuale Visto che arrivava Questa partita Con un 17 Su 15 Su 17 Ai tiri liberi Ora Pesaro Prova il gioco Alto basso Per l'endill Per Caserta Con Edgar Sosa Si schiera uomo La difesa Di Pesaro Sosa serve Bossi Che prova A attaccare il ferro Poi serve Mitchell Watt Adesso la palla È per putney Che vorrebbe Luno contro uno Contro Jones Invece vuole servire Watt Che ci prova Da fuori Per Caserta La firma È di Mitchell Watt Per il 7 a 6 Di i bianconeri Intanto c'è un'altra Lombata La terza Di questo quarto E Raffia il putney Che fa Palle sue braccia Lunghissime Una schiacciata Alla Space Jam Allungato il suo braccio Come se fosse Michael Jordan Nell'ultima azione Contro i Monstars E quindi Arriva il 9 a 6 Per Caserta Pesaro Che adesso Prova ad attaccare Con Ceron Deve fermare il palleggio Rischia di perdere Un altro pallone Però La stessa Pesaro E la perde La Juve Riesce Quasi sempre a vincere Quando le palle perse Sono meno di 15 Per i bianconeri La vittoria È praticamente assicurata Ora palla Per Miche Watt Mentre è ripreso Il gioco Edgar Sosa Vuole attaccare Riesce a servire Miche 6 punti Anzi 7 punti Per il numero 50 E quindi Ha già superato La prova opaca Di Torino Ora Pesaro Prova a mettere in moto Gli asaitis C'è Watt Su di lui Ora c'è il mismatch Per l'endri no Che non viene sfruttato Solo 6 secondi Ora Per l'attacco pesarese Ci prova con Gero Jones C'è il rimbano Comunque I suoi palli Pesaro Adesso riparte Con la palla Per Ryan Harrow Un vero generale In campo Ora c'è Ron Che serve Gli asaitis E pensa al tiro A tre punti Serve di nuovo Noko Che davanti Michel Watt Riesce a difendere Perfettamente Su di lui Noko Infatti prova il gancio Non riesce ad arrivare Nemmeno al verro La palla è per Bostic Che riesce a segnare ancora Watt Che scommette Infrazione di passi In media Ma ancora è inesperto Di campionati europei Sì Sicuramente è un giocatore Che deve fare esperienza E la sta facendo a peso Tant'è vero che Pesaro Gli ha voluto Parfinare un contratto Di educatura Sullo stesso Thornton C'è il cambio Con Sosa Che va sulle sue tracce Thornton Vuole l'uno contro uno Poi serve Noko Poi gli asaitis Ora Gianro Jones La palla Viaggia sul perimetro Per Pesaro C'è Ron Trova la penetrazione Steremo gli asaitis Che ci prova Da 5 metri Pallone cortissimo Caserta può partire In contropede Tanti palloni sporcati Da parte della difesa Casertana Ed Cassato Vuole ragionare C'è il suo Uno contro uno Di Putney Che vuole il tiro Da tre punti È lungo però Va sul secondo Quarto Sono decisamente tante Sono tantissime Nove palle perse Già quasi in doppia cita Si riprende Intanto col gioco Con Marcus Thornton Che se ne è Brandon Fils Che ha davanti Putney Ora la palla è per Jones Ancora Thornton C'è la difesa Casertana Che cambia su tutti i blocchi La palla viaggia Per Pesaro Con Fils Che riesce a buttarsi dentro Per Brandon Fils Si lente In questo primo parziale Ora prova A reagire giù Buttandosi dentro Chiede troppo forse Pesaro può partire In contropiede Con Thornton Che serve lo stesso Fils Da due punti C'è l'errore Da parte sua Che l'altro lungo titolare Ha già due palli sul gruppo Dicevamo alla Thornton Adesso che ci prova Da due punti E riesce Partita meglio Pesaro in questo secondo quarto Vediamo un po' Se Caserta Si risveglia un po' Replica del primo quarto Con Cincianini Adesso e prova a buttarsi dentro Guarda caso Proprio contro Venezia Ha disputato finora La sua migliore partita Con 23 punti 5 su 7 al tiro Era Qualche luce Che le colpisce Perché Da fastidio Ecco il Non è ancora riuscito Ad andare Alla lunetta Balla Balla Ora per Zavakas Che è davanti Olek Cizza Aspetta il movimento di Fils Che dice Le lontano da Canestro Ora Thornton Che vuole l'uno contro uno Assume se tracce giuri Ancora Thornton Che riesce a eludere La difesa del 21 Serve Noko Che però sbaglia 3 secondi sul conometro La palla è ancora per Pesaro Con Zavakas 7 a 1 7 a 1 di parziale Caserta è tornata addormentata In questo secondo quarto Ora Sosa Che vuole cercare di svegliare i suoi Riesce ad affondare a Canestro Forse c'era Pallo Sulla sua penetrazione Però il pallone non entra L'arbitro non fischia La palla quindi Ora è per Pesaro Con Fils Che si butta dentro Ed appoggia il dice Per Pesaro Che adesso è in vantaggio di 3 Marco Giuri Che vuole lo schema Passa la palla A Cicciarini Che vuole penetrare Poi serve Edgar Sosa In questo momento Tantacolo Casertano Non sta funzionando Palla per Pins Da davanti Cicciarini Esce a battere Dal palleggio Poi serve in angolo Marco Storto Che ci prova da 3 punti Il pallone è lungo C'è rimbalzo di Sosa Quindi va bene a Caserta Edgar Sosa vuole l'uno contro uno Scrutto al blocco di Watt Che viene servito E va ad appoggiare Uno punto Per Mitchell Watt Che riattiva quindi L'attacolo Casertano Primo canesso dal campo Di questo secondo parziale Brandon Pils Che prova l'uno contro uno Sotto uno contro uno Di Cicciarini Vediamo un po' Se riesce di nuovo A trovare Cioè il tiro da 3 punti Di Thornton Viene sbagliato Però per fortuna Casertano Ha preso con Ottima scelta Perché si era impastato Sul blocco Il difensore di Thornton Edgar Sosa Ora vuole l'uno contro uno Vuole servire Watt Ci riesce in qualche modo Formale Ma nella sostanza Lui è stato sempre Casertano Intanto è ripartita La gara tra Caserta e Pesaro Con Edgar Sosa Che vuole servire Mitchell Watt La palla è per Giuri Ora Che ha davanti il noco Serve Gardefors Sul lato debole Che si appoggia al ferro Sbaglia la conclusione Per almeno La prima conclusione Presa da Gardefors In questa partita Più propositivo Il numero 15 Vediamo che possa essere In questo modo Palla ora per Pesaro Con Ryan Arrow Che aspetta il taglio di Filz Che riceve La palla è sul lato sinistro Del campo Ora la palla È per Giano Johnson Che vuole L'uno contro uno Con Putney Questo terzo parziale Potremmo dire Una non difesa Di Putney Ora Edgar Sosa Che vuole il blocco Di Watt Serve sul lato debole Putney Che batte lo stesso Jones Per Caserta Con Putney Che riceve Proprio in questo momento Marco Giuri Ora sfrutta il blocco Di Watt La palla Ora circola E la rischia di essere persa Da parte di Caserta Putney prova a battere Nuovamente Jones Con il Mesh Di lunghi avversari Diventa Un po' complicato Difende Il tiro di Putney Zero su tre Addirittura per Rafael Putney Cosa Che è praticamente Quasi inesistente In queste prime Undici giornate Di campionato Ci resta quindi Sul 38 pari Con Ryan Haro Col pallone C'è Giuri Alle sue costole L'attacco di Pesaro Però ristagna In questo momento Un passanza fermo Con Tins Che vuole servire Jones Che può sfruttare Uno contro uno Con Gabbe Non lo sfrutta Però Spalle a canestro Preferisce il tre A sei metri Putney però Vola a schiacciare Ma c'è il perro Tra le top di Numero uno Molto probabilmente Non vogliamo essere Onesti Palla ora per Pesaro Con gli asaitis Che si è visto poco Nel primo tempo Palla per Arro Che vuole l'uno contro uno Con Putney Che tiene benissimo Però contro il numero 55 Poi perde il pallone Pesaro Caserta può ripartire Edgar Sosa però Vuole ragionarci su Serve in angolo Marco Giuri Che ci prova Da tre punti Su 13 Adesso per la Juve Che però mette il naso Avanti Sul 41 a 38 Palla per Pesaro Ora Con Filz Che vuole l'uno contro uno C'è l'ottimo raddoppio Da parte Casertano Meglio da tre punti In questo momento Palla ora per Pesaro Con Filz Vuole l'uno contro uno Contro Watt Riesce a batterlo E con una Che rimane attaccata Al match Sul meno uno Edgar Sosa ora Serve Watt Che intelligentemente Serve lo stesso Giuri Che però sbaglia Un rigore in movimento Si resta sul più uno Quindi Era ottimo Il passaggio di Mitchell Watt Che aveva visto Il taglio del capitano Palla ora per Pesaro Si vuole Per perdonare Non si deve perdere Nei cambi difensivi Perché spesso Pesaro è bravo A punire i mismatch Ora i asaitis Col pallone Adesso per Jones Che vorrebbe cercare Un uno contro uno Sono sei secondi Per l'attacco pesarese Harrow riesce a servire In agolo Brandon Filz Il numero tre Lui che tira Col diciotto per cento In questo campionato Vinora riesce a segnare Al suo primo tentativo Da dietro l'arco Marco Giuri ora Fa viaggiare il pallone La palla è per Edgar Sosa Che riesce a battere Rai Tutti i suoi Break di 5 a 0 Firmato esclusivamente Brandon Filz Si che ha pescato Anche un jolly Non facilissimo Ora Sosa Serve in angolo Garde Forza batte In palleggio Di asaitis Poi non se la senti Di tirare Serve Sosa In equilibrio precario Questa è una difesa Importante per Caserta Ci resta uomo Con Caserta La palla ancora Per Ben Loquiz Che battezza Che viene battezzato La palla Sbaglia questa volta Un tiro ben più semplice Rispetto al primo Marco Giuri Prova ad andarsene Contropiede Poi serve giù Guardi le Sosa Ripetiamo È difficile Poterlo vedere in campo Ma Caserta è avanti Sul 47 a 43 Con Sosa Che riesce a rubare il pallone E va a schiacciare Massimo vantaggio Per i bianconeri Sul più 6 adesso Pesaro Adesso deve uscire Dal momento di inolta Palla per gli asaitis Il palamaggio Si è acceso adesso Jones serve sotto al no Ma un'altra palla recuperata Da parte di Caserta Grande forza Va in contropiede Si ferma Sulla linea del tiro Libere Compa in frazione di passi Siamo di secondi in più Chissà cosa avrà pensato Coccio dell'Agnello L'abbiamo visto calmo Ma avrà pensato Del vimpro per il toscano Ora Filz che vuole attivare gli asaitis C'è all'1 contro 1 con Gadde forza Palla per gli asaitis Poi viene servito sotto Jones Ma c'è il pallo in prece Dove potrebbe anche gestire meglio l'aggressività Ora c'è quindi rimesso dal fondo per Pesaro Con gli asaitis Che serve Thornton C'è Gadde forse sulle sue tracce Rimesso a batterlo Thornton La palla è fuori Per Jarro Jones Che segna la triccola Si resta sul più 6 Chiude quindi Lavoraggine Pesaro Che va a zona Adesso Zona fronte pari Per la squadra di Bucchi Che vorrà essere battuta da sosta Con il tiro da 3 punti Solo secondo perro Ora Quindi Pesaro Ha nuovamente Il pallone in attacco Con Thornton Che pensa per un attimo al tiro Che si appoggia 5 su 15 Anzi 5 su 16 Visto l'errore Prima di Edgar Sosa Ora La palla è proprio per la Juve Con lo stesso sotto Che serve Giuri Che pensa al tiro da 3 punti C'è solo il ferro Però c'è il rimbalzo Da parte di Jones Intanto è esploso qualcosa Dietro di noi E ha rimopato nelle nostre orecchie Palla per Thornton Che ha di fronte Marco Giuri Aspetta che l'attacco pesarese Si muova La palla ora è per Fields Che aspetta di Asaitis Che riceve sulla costa del campo Ora ricevendo Quasi Palla persa da parte di Pesaro Caserta non attenta in questo caso Fields forse si aiuta col braccio Sbaglia la conclusione C'è il rimbalzo Da parte di Oleg Ciz Con Marco Giuri Che può Provare L'uno contro uno Poi vuole servire Watt Ora Cincianini Ancora Cic Che vuole l'uno contro uno Serve Sosa Che ci prova Da tre punti Solo Ferro Anche per la conclusione Torna da rappedarsi Quindi le mani casertane Thornton Vuole l'uno contro uno Si arresta dai quattro Noi cinque Alle credo di 7 a 0 Di Pesaro Contro questa difesa Caserta si è imballata Caserta si è imballata La zona di Pesaro Sta facendo male Intanto arriva Anche un'altra Palla persa Da parte di Caserta Giasaitis Ora viene servito in angolo Fields Poi la palla Per Johnson Buon gioco Sotto canestro Per presenza Contro Black Di 9 a 0 Quindi per Pesaro Che passa In vantaggio Ora Caserta Deve trovare un modo Per poter battere La difesa Caserta C'è messo una pezza C'è messo una pezza Primo squillo Da parte Di Daniele Cinciarini In questa partita Da 5 a 52 Balla per Thornton Ora Che aspetta Il movimento Di Fields Che riceve adesso Ora Giasaitis Che vuole il tiro E lo preferisce Ad andare in uno contro uno Si arresta dai quattro metri Quattro Primi punti Giasaitis Ancora la difesa Zona Pesarese Con Sosa Che riceve Sul lato sinistro del campo Balla per Cinciarini Ora Vorrebbe ricevere Watt Che però è coperto da Noco Ora Balla per Sosa Che viene Che prova Andare in presentazione In contro Adesso Caserta Deve cercare Di mantenere in difesa 5-7-5-4 Ora Per Caserta Marcus Thornton Che aspetta Ancora i compagni Vuole l'uno contro uno Contro Giuri Si arresta Dai quattro metri Prova una magia Non ci riesce In malta di Marco Giuri Caserta può partire In contropiede Quasi perde palla Il capitano Ma riesce a salvarsi In calcio d'angolo Balla per Sosa Che serve Oleg Cins Una pinta Prova ad andare sotto canesso Poi vuole servire 5-32 Si resta sul più tre Adesso Con 55 secondi Da giocare Balla per gli Asaitis Poi di nuovo Brandon Spils C'è lo show difensivo Da parte di voi Per l'attacco Pesarese Con Brandon Spils Che riceve adesso Vuole l'uno contro uno Contro Giuri Si stampa sul blocco Il capitano Lo stesso Pils Va in penetrazione Seguisce L'aiuto del lungo Quindi alla fine È dovuto in 14 Per lui Una buona partita Da parte di lui Si sale quindi Sul 57 A 56 Partita Ancora in equilibrio Con Edgar Sosa Che riceve A centro campo Ha alzato la difesa Adesso Pesaro Che è tornata a uomo Per questa azione Soda vuole l'uno contro uno Con Pils Vuole cercare di inutere La sua difesa Forse c'è un pallo E il pallo viene Perché con il corpo È stata un'onesta difesa Ma con le mani Con le mani Ha sbracciato un po' Ha messo le mani Addosso a Edgar Sosa Che è riuscito comunque A segnare Per Pesaro Che andrà fino alla fine Vediamo se Caserta Riuscirà a tenere botta La palla è per Ryan Arrow Che vuole Probabilmente Un uno contro uno Contro Marco Giuri C'è il blocco di Novo C'è il cambio di Orecciza Che riesce a stare Alle sue tracce Poi prova ad appoggiarsi In qualche modo Arrow C'è l'errore Da parte del 55 Con il stesso pallo